Ho iniziato ad allenare in socialosa perché mi ha portato un mio carissimo amico e il primo anno avevo tre squadre. Allenavo la categoria propaganda, la categoria cadetti e facevo il vice allenatore della squadra di Serie D. Sono dei colori, come si può vedere, che mi sono sempre rimasti nel cuore giallo e rosso e non perché sono romanista. Ho allenato per 10-15 anni in socialosa, poi purtroppo impegni lavorativi e altri mi hanno costretto ad abbandonare l'attività, però è stato un piacere quando mi è arrivato l'invito per i 70 anni da socialosa a tornare e vedere tantissimi amici e tantissime persone a me care. Purtroppo ho visto anche che qualcuno non c'è più. Speriamo di vederci 13 anni.